Togliamo, ecco, tutti indiretamente dalla nostra città, tutti i sottolineari, imprenditori di un certo spessore, gli ideologi, rappresentanti con la sua presenza, tutte le imprese che sono sull'interritorio, quindi per la sua qualità nei servizi di un'interritorio. Così come, ecco, io volevo sottolineare la presenza di i ragazzi diversamente anni, così anche di tanto impessi della nostra città, e rappresentare la persona dei miei, veramente di cui mi sono. Io vi ringrazio per la tua presenza, così come volevo sottolineare, il Presidente è presente, non sostanto, attraverso la mia persona, attraverso anche la presenza della Vice Presidente, la Dottoressa Casini, e il proprio, ecco, facendo cultura e informazione, perché questa è l'informazione e cultura, che siamo centrati questa sera, da qui a qualsiasi giorno, mercoledì prossimo, noi presenteremo anche, una tucca di grande qualità sul nostro territorio, una ricerca fatta dall'autore di Bucciano, in questa sala. Quindi, io vorrei annunciare in modo tale che le persone che sono disponibili, ne possono anche, meritano ascoltare, ecco, e ad avvenerarsi a questo grave momento di cultura. Quindi ringraziando l'intervento della Dottoressa Giorgione, la Dottoressa Giorgione, che è sempre parte di dire, noi vogliamo delle persone che siano, non raccomodanti, ma che siano, ma che siano, quando si hanno dei ideali, ecco, e si sono dei fascinatori, come vi dicevo, queste battaglie che sono battaglie nostre, battaglie umane, battaglie sociale, battaglie economiche, che riguardano tutti quanti noi. Io ne vorrei passare la parola a chi mi legge, le leggi che ogni giorno, ecco, le mastica, a chi mi legge, vive ogni giorno, e che propone alla nostra attenzione queste leggi. E l'Avvocato Mariano Buccio, che noi riconosciamo e ringraziamo, perché, ecco, di grande parte anche, e mi sono più visto su queste battaglie residenti, attraverso anche la politica. Passo la parola a me.